Il comune di Cicerale è un comune molto vasto con una estensione di 43 km2 e a 500 km2 di strade interne. Molte di queste sono state interessate nel corso degli anni da movimenti franosi e smottamenti. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gerardo Antelmo nonostante la pandemia non si è fermata ma ha continuato ad intervenire sulle arterie stradali che necessitavano di ripristino e a distanza di un anno sono stati avviati anche i lavori sulla strada provinciale 83. Nell'anno di pandemia abbiamo ristrutturato, questa è la quinta ristrutturazione della viabilità, messa in sicurezza della viabilità. Abbiamo sistemato una frana che era accaduta circa più di dieci anni fa nell'altezza di Casa Converti, l'abbiamo sistemata. Il presidente della provincia mi dice è diventato quasi un'autostrada. Abbiamo sistemato la frana sotto la frazione Monta all'altezza di San Vincenzo, anche di quella è avvenuta un ottimo lavoro che assicura maggiore sicurezza della viabilità. Abbiamo sistemato la strada di Cirignano, ancora più a valle sulla provinciale. Abbiamo sistemato una frana sulla strada comunale della circonvallazione San Giorgio. Anche lì un importante intervento di messa in sicurezza. Adesso il comune sta assistendo alla sistemazione di questa parte importantissima su via Trentinara che è sempre la provincia dell'83 ma è la nostra via Trentinara che è quasi adiacendo alla piazza. Una frana molto importante che impediva ad esempio i proprietari a valle di poter coltivare i terreni e di poterli perché appunto era davvero un pericolo. In questi giorni si sta realizzando questo intervento, probabilmente entro il 24-25 di marzo saranno completati i lavori. Poi passeremo con un investimento di 410 mila euro su via Carbonaio che è un'importantissima arteria che collega il paese con la zona industriale, con l'area industriale, quindi con Agropoli, Pestum, Giungano, soprattutto l'area industriale, quindi un collegamento veloce, il più veloce ma che lo metteremo ulteriormente in sicurezza perché investiremo circa 400 mila euro su quell'area. Una speranza forse vicina per vedere riqualificata anche la strada che porta a Corbella, una strada di 5 chilometri che versa in condizioni disastrose per chi ogni giorno la percorre. Lavori che però restituirebbero il giusto valore ad un luogo immerso nella fiera e selvaggia macchia mediterranea dove scorre anche il fiume Alento. La protezione civile nazionale, il governo Conte, nell'ultimo atto che ha firmato, ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi del 30 novembre e del primo dicembre, gli eventi di calamità atmosferica del 30 novembre e del primo dicembre e ci generale risulta tra i comuni finanziati tra nove del Cilento, insieme con Santa Marina e altri sette comuni. E quindi anche in quel caso interverremo perché i danni in quell'occasione furono insomma molto molto importanti soprattutto sulla strada via Guarane che poi è la strada che di collegamento per il Parco Nazionale del Cilento, la famosa strada che poi porta... Che conduce a Corbella. A Corbella, la famosa strada che conduce a Corbella e quindi dato che in quell'occasione c'è stato un forte aggravamento delle condizioni di sicurezza di quella strada interverremo con il progetto della protezione civile nazionale e con il governo insomma già abbiamo preso i contatti giusti nelle sedi opportune per poter realizzare quelle infrastrutture e sistemare finalmente dopo venti anni ovviamente quella infrastruttura. Quindi insomma stiamo lavorando, quest'anno non lo stiamo trascorrendo in vano. Che tempi sindaco per la strada di Corbella? Credo che anche diversi cittadini siano interessati magari a capire insomma. A febbraio, il 9 febbraio lo Stato, il governo ha dichiarato lo Stato di calamità naturale per il nostro territorio. Adesso dobbiamo realizzare tutta la fase di progettazione per gli interventi e poi insomma essendo poi fondi quasi di sommorgenza io credo che non dovrebbe andare molto per le lunghe però teniamo conto che via Guarane è una via di quasi 5 chilometri quindi insomma una via che senza un intervento poderoso da parte degli enti sovracomunali è difficilmente realizzabile quindi ci stiamo lavorando. Ecco quelle risorse del decreto emergenza del governo le destineremo sicuramente su via Guarane che è un'arteria importante perché è la porta di accesso al Parco Nazionale e noi vogliamo puntare moltissimo sul Parco Nazionale e su quello che è ormai l'immagine di un Cilento che è ecosostenibile vuole mostrare al mondo tutta la sua bellezza e tutta la sua le sue potenzialità appunto anche di attrazione dei turismi dell'ecosostenibilità e quindi quella è una valle è una valle paradisiaca che fa gola a tanti escursionisti però insomma bisognerebbe effettivamente come diceva lei metterla in sicurezza Assolutamente la inseriremo in questo progetto che inoltreremo a breve e quindi insomma abbiamo già preso i contatti giusti speriamo di fare il prima possibile insomma nelle cose io sono arrivato soltanto un anno e mezzo fa e un anno di pandemia però quest'anno di pandemia sicuramente non lo spiegheremo tanto è vero che lo abbiamo utilizzato per realizzare tutti i preliminari per l'apertura del museo Degas del museo che insomma parte da questo grande pittore impressionista che ci sono onorati della presenza più di cento anni fa e quindi appunto in paese quindi voglio dire stiamo lavorando all'acreamento a questo progetto e che contiamo di inaugurare prima dell'estate Sicuramente l'arte e la cultura insomma sono importanti e fondamentali per un territorio accompagnati anche da la riqualificazione in sé insomma del territorio stesso quindi delle strade per l'accesso anche ad altri luoghi che sono di interesse ambientale ecco potrebbero effettivamente dare una vetrina sul territorio di Cicerale non indifferente al mondo intero ecco potrebbero effettivamente